Licia Abela, Eugenio Catani e Flavio Di Francesco sono i tre nuovi assessori comunali di Gela chiamati dal sindaco Domenico Messinese a sostituire Chetti Damante, Pietro Lorefice e Nuccio Di Paola. Licia Abela, 32 anni, sposata madre di una bimba e il nuovo componente dell'esecutivo a cui sono state affidate le deleghe servizi sociali e all'istruzione. Laureate in scienze dell'amministrazione, il neoassessore presentò una tesi in sociologia del territorio sullo sviluppo di Gela. Una città che amo, nella quale sono nata e nella quale vivo da quando sono nata e quindi ho una grande voglia di mettermi in gioco, di cominciare a mettere all'opera tutto quello che mi sarà consentito di fare, soprattutto la cosa che mi preme è quella di mettere il cittadino al centro dell'attenzione per quello che sono i miei settori e cercare di cominciare a doliare bene la macchina amministrativa affinché tutti insieme possiamo formare una squadra che possa funzionare e dare le risposte che la città merita di ricevere. 41 anni, software engineer della ST di Francesco, è sposato ed è padre di quattro bambini. Lavori pubblici e decoro urbano sono le deleghe assegnategli dal sindaco. Lo faccio con spirito di abnegazione soprattutto per la città perché anche il mio impegno durante la campagna elettorale perché ero candidato alle ultime amministrative era solo alla luce del bene della città e dei cittadini. Gela tanto bisogno e il mio ruolo sarà quello di cercare a tutti i costi di reperire fondi dalla comunità europea perché senza quelli chiaramente i lavori pubblici non potranno andare avanti quindi il mio obiettivo sarà solamente quello e cercare di far lavorare al meglio quelli che sono gli uffici di competenza e i vari settori. Eugenio Catania ha 32 anni e laureato in giurisprudenza, ha conseguito un master in economia all'Università di Palermo e condotto un'esperienza in Spagna nell'ambito del progetto Erasmus. Lavora come legale ed è noto in città come blogger. Le sue deleghe saranno quelle al controllo del territorio, sport ed eventi. Mi affaccio a questo incarico con grande entusiasmo, sono molto orgoglioso della scelta che è stata riposta nella mia persona da parte del sindaco, cercheremo insieme con i dipendenti del settore che andrò a dirigere di cercare di fare il meglio per la nostra comunità. In particolare per quanto riguarda la Polizia Municipale che è un settore che conosco bene essendo stato dipendente della Polizia Municipale in passato, cercheremo di dare alla città la risposta riguardo alla sicurezza che è molto richiesta in questo periodo in tutte le comunità italiane, in tutte le cittadine italiane.